Oggi vorrei parlarvi dell'universo giovane, dell'universo bambino, che ci aspettiamo essere un pochino diverso da quello che noi vediamo nelle nostre vicinanze, come questa galassia inquadrata dallo James Webb Space Telescope che risulta essere già completamente formata, come sui bracci a spirali, è una foto molto dettagliata che fa anche vedere le zone dove nascono le stelle. Noi non abbiamo mai visto delle galassie del primissimo universo, però abbiamo delle aspettative e delle previsioni che derivano dalle simulazioni numeriche che sono state fatte nel recente passato. Questa, per esempio, è il risultato di una simulazione che fa vedere come l'universo è una specie di ragnatela cosmica, una specie di spugna con dei filamenti che poi si incontrano a formare dei grumi di materia pochino più concentrata e questi grumi sono i semi da cui nasceranno le galassie e gli ammassi di galassie. Questa è un'altra visione della stessa simulazione che vi fa vedere come se foste in viaggio attraverso questi filamenti e questi incroci, questi grumi. Questa è un'altra simulazione invece che vi fa vedere quello che voi vedreste se andasse intorno a uno di questi semi di ammassi di galassie. Questa invece è un'altra simulazione di una galassia in formazione. Vedete che c'è della materia che cade o tenta di cadere nel centro e lo fa spiraleggiando, formando quindi un disco, però c'è un altro po' di materia che invece di andare indentro va in fuori, viene espulsa dalla galassia per poi ritornarci come in una fontana. Come mai? perché anche nella formazione delle prime stelle quelle che si formano e vivono per prime sono le più grandi. Le più grandi stelle hanno una vita molto breve, molto pirotecnica, spettacolare, anche perché esplodono in supernove che sono capaci di espellere l'involucro e l'inviluppo della stella a grandissima velocità. È capace di uscire addirittura dalla galassia per poi tornarci sopra. Ora, se noi vogliamo vedere le prime stelle, le prime galassie, i primi buchi neri e così via, però dobbiamo avere due accortezze. La prima è che la luce che queste stelle fanno è all'origine nell'ottico e nulla tra violetto. Però hanno un lungo viaggio da fare per arrivare fino a noi, più di 13 miliardi di anni e in questo tempo l'universo si espande ed espandendosi stira le lunghezze d'onde della luce che diventano sempre più lunghe. Questo vuol dire che la luce che parte come luce ultravioletta ha una lunghezza d'onda che stirandosi diventa sempre più rossa e addirittura quando arriva da noi è nell'infrarosso, sia vicino che lontano. Quindi dobbiamo avere un telescopio e un rivelatore sensibili all'infrarosso. Il secondo requisito è che l'infrarosso è in gran parte assorbito dalla nostra atmosfera, per cui dobbiamo mettere questi strumenti in orbita. Ed ecco qui il nostro gioiello più spettacolare, più avanzato, che è il James Webb Space Telescope, che ha uno specchio di 6 metri e mezzo di diametro. Abbiamo confrontato la settimana scorsa con l'Hubble Space Telescope, che è l'altro gioiello, che ha uno specchio di, tra virgolette, soli 2 metri e 40 e quindi è uno strumento molto potente ed è progettato per ricevere nell'infrarosso, essere sensibile all'infrarosso. E se vogliamo appunto vedere i primi oggetti del cosmo formarsi, dobbiamo essere capaci di spingersi molto molto lontano, a qualche centinaio di milioni di anni dal Big Bang. Ecco che se vogliamo confrontare i due telescopi, abbiamo che con il telescopio Hubble si arriva fino a 700 milioni di anni dal Big Bang. Mentre con lo James Webb vorremmo riuscire a inquadrare, studiare e ricevere i dati da sorgenti che vivono appena 200 milioni di anni dopo il Big Bang. È un'epoca dove noi prevediamo che nascano le prime sorgenti interessanti per noi. E tra le prime immagini che il James Webb ha mandato a noi da Terra, abbiamo questa zona di cielo che era stata vista dal Hubble Space Telescope. è una zona dove non abbiamo stelle, una zona molto piccola, qui la vedete grande, ma è una zona minuscola di cielo, ma è un'immagine molto molto profonda. Tutti i punti che vedete sono delle galassie sia vicine sia un pochino più lontane. Se confrontiamo la foto di Hubble con la foto del James Webb vediamo che quest'ultima è molto più dettagliata e pensate che Hubble ci ha messo giornate intere di osservazione per ricavare la prima foto che vedete, questa qua, mentre il James Webb ci ha messo meno di un'ora. Vedete la potenza di questo telescopio. Ripeto, tutti i punti che vedete in queste due foto del cielo sono galassie. Ora, tra queste foto, tra queste galassie, ne abbiamo individuata qualcuna di cui sappiamo già la distanza, perché il telescopio James Webb ha la possibilità di separare la luce nelle sue varie lunghezze d'onde, trovare delle righe sia in emissione che in assorbimento, quindi sapere quant'è il loro spostamento verso il rosso che indica immediatamente la distanza di questi oggetti. La prima che vedete in alto, vedete, corrisponde a questo oggettino qui, ingrandito in questo zoom, e vedete che il resto di questa galassia la pone, tramite la legge di Hubble, a 11,3 miliardi di anni luce da noi. La seconda, che è questa, vedete che è un pochetto più rossa, è a 12,6 miliardi di anni luce. E queste sono sicure, sono misure, si dice, spettroscopiche, quindi sono confermate dalla posizione delle lunghezze d'onda, delle righe che osserviamo. La terza, 13 miliardi di anni luce da noi, è questa qui, no, scusate, sì, la terza è questa qua, e la quarta, in questa foto è la più lontana, 13,1 miliardi di anni luce. Quindi ci stiamo avvicinando al limite che speriamo di ottenere. E qual è la galassia che detiene il record di distanza? Beh, è questa, sempre nella stessa immagine, vedete che è questo puntolino arancione, rossastro, e di questa abbiamo fatto lo spettro, e quindi sappiamo che sta vivendo, sta emettendo luce, in una zona che è 367 milioni di anni dopo il Big Bang. Vedete che già dopo un anno e mezzo dal suo lancio, il James Webb Telescope si sta avvicinando al limite che vogliamo ottenere, che è un paio di centinaia di milioni di anni luce, dove pensiamo che si formino le prime stelle e le prime galassie. Abbiamo trovato delle sorprese in queste prime osservazioni? Certamente, certamente, perché James Webb ha dimostrato che ci sono nell'epoca del primo universo, diciamo sotto l'anno di età, in questa nostra analogia, noi pensate di avere una persona di 80 anni, ecco. Quindi 80 anni corrispondono a 13,8 miliardi di anni dell'universo. Ecco, noi vogliamo inquadrare delle sorgenti dopo 100 milioni di anni dalla nascita dell'universo, è come se volessimo fare delle fotografie a un neonato che ha sei mesi di vita, e noi ci stiamo avvicinando. Ecco, stavo dicendo che abbiamo trovato delle sorprese, perché abbiamo tanti oggetti, più del previsto, già formati, galassie che sembrano avere già avuto una grande formazione stellare, che erano un pochino impreviste. Quindi dobbiamo probabilmente rivedere e aggiustare le nostre idee di come si formano le stelle e le galassie. Sono capaci di farlo in maniera più precoce di quello che pensavamo. Questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci alla prossima.